Per il prossimo, Anna, per il prossimo faccio un spettacolo, Fina mi ha detto che abbiamo preparato per te una lunga passerella al centro della sala, l'unico problema è che dovrai farla così da sola, in maniera molto... vorrei vedere una piccola prova. Pronti? Da qui a media? Siamo pronti a tutto! Bene, ancora un grazie di cuore e tanta felicità, serenità e in bocca al lupo grande per il coro delle voci bianche del Teatro Maldi.